Al The Space Cinema di Montebello torna Voghera Film Festival, la grande festa del cinema indipendente internazionale. Tre grandi eventi ad ingresso gratuito. 4 novembre Notte Horror 5 novembre Cortometraggi 6 novembre Videoclip, animazione e documentari Dal 4 al 6 novembre Voghera Film Festival 2016, al The Space Cinema di Montebello della Battaglia. Inizio proiezioni, ore 21. Siamo giunti al quarto weekend di ottobre che vedrà una situazione di instabilità tra sole e pioggia con una domenica all'insegna delle precipitazioni. Ma vediamo ora nel dettaglio cosa ci anticipano le previsioni del tempo delle giornate di sabato 22 e domenica 23 ottobre 2016. Le previsioni meteo di sabato per Voghera, cielo sereno nelle prime ore del mattino, nubi sparse a partire dalla seconda metà della mattinata. Situazione che caratterizzerà il resto della giornata. Temperature comprese tra 5 e 16 gradi. Situazione analoga a Pavia dove il sole illuminerà l'intera mattinata per poi lasciare spazio ad un cielo leggermente più nuvoloso nel pomeriggio ed in serata. Temperature comprese tra 4 e 17 gradi. Peggiora notevolmente la situazione domenica quando una perturbazione porterà deboli piogge su tutta la provincia per l'intera giornata. Si prospetta quindi una domenica uggiosa con temperature che a Voghera saranno comprese tra 8 e 13 gradi e tra 7 e 14 gradi a Pavia.